Dalle premesse fatte risulta proprio che cos'è la GDL è una disciplina centrata sul corpo, sulle memorie del corpo che siano sia universali sia soggettive, quindi nel riattraversamento anche di tutte le specie animali, perché anche dopo la nascita noi continuiamo nel sviluppo psicosenzomotorio a percorrere tutto lo sviluppo dell'erezione dell'essere umano e questo per capire che quando parliamo di un uomo, se questo è un uomo come dice Levi anche espogliato di tutto, è un uomo e io sto parlando anche espogliato del riconoscimento delle sue buone ragioni, della ragione, quindi sto parlando della psichiatria anche, ecco se questo è un uomo è perché dentro c'è tutta la storia che precede e porta allo sviluppo dell'umanità, quindi ognuno di noi non è un uomo, ma è l'umanità intera e detto questo la globalità dei linguaggi si misura ormai da più di 40 anni con il mondo della cura senza dare importanza alla diagnosi, nel senso che può essere un gravissimo come dicono, per noi è semplicemente un essere umano e quindi le modalità che sceglie la globalità dei linguaggi sono tutte queste teorie del sentire e della memoria del corpo con dei progetti persona da utilizzare secondo la necessità che ci troviamo davanti, di qualunque età, di qualunque cultura e quindi non è facile qui riassumere la disciplina, però perlomeno dire che noi teniamo conto di una mappa bioenergetica del corpo, del verso dell'energia fuoriuscita dal grembo materno, noi abbiamo dei massaggi che vanno dalla base della schiena verso la nuca, quindi è un conto carezzare una persona o massaggiarla ridandogli le toglie espulsive e un conto proteggerla e farla regredire. Ecco queste sono cose essenziali di cui spesso non si tiene conto, ci viene spontaneo per cultura un bambino, una persona che proteggiamo dire poverino, poverino, che non è dargli la spinta vitale per ritrovare le sue vie d'uscita. Grazie a tutti.